Prima sfida dei play-off per l'Amen Scuola Basca e Terezzo, domenica alle 18.15 al Palace Porta Estra. Gli Amaranto ospiteranno l'Audax Carrara per gara 1 dei quarti di finale. Arbitri dell'incontro saranno i signori Uldank di Pisa e i Nocchi di Bientina. Dopo la cosciente e precoce eliminazione dello scorso anno, in casa sbace grande voglia di rivalza in questi play-off. L'avversario di questo primo turno è di quelli da affrontare con la massima attenzione. L'Audax Carrara di coach Bellavista è stata capace, in stagione regolare, di vincere al Palace Porta Estra e proprio in trasferta ha ottenuto sette vittorie in 13 incontri, un rollino di marcia insidioso che sottolinea la potenzialità del quintetto di Carrara. Attorno a Capitan Valenti, coach Bellavista può contare su un pacchetto lunghi, esperto e capace di mettere in difficoltà i pari ruoli a Maranto nell'ultimo scontro diretto giocato a Carrara. Da segnalare inoltre le qualità dei giovani Viola e Marco Menconi, i veri e propri gioielli del settore giovanile marmifero, ma già capaci di essere molto incisivi a livello di Serie C. Riuscire a limitare il tiro da fuori degli esterni dell'Audax sarà una delle chiavi tattiche per provare a superare questo scoglio. Un altro fattore importante sarà quello del Palace Porta Estra, chiamato a supportare l'Amen, che ancora una volta ha chiuso una stagione regolare in crescendo, con ben sette successi consecutivi. Adesso è arrivato il momento delle partite decisive e anche il sostegno del proprio pubblico può diventare un'arma in più a favore della SBA. L'appuntamento per tutti i sostenitori a Ritigni è dunque fissato per domenica alle 18.15 con la prima palla 2 dei quarti di finale playoff.